Oh, che bello! Ah, che vodure, un po' caldo qua, con la felpa, però... Sì, effettivamente era meglio il costumo, però... Oi, ciao ragazzi! Siete qua! Scusate, eravamo in vacanza e... In vacanza, così... Ok, pirlato del video detta... A Milano Beach! A Milano Beach, famosissima Milano Beach! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video TuttoTec! Oggi vi presentiamo delle offerte che, abbiamo notato, continuano a insistere su Amazon Questo più che altro è un video per quelli che sono appena entrati nel mondo del nostro dispositivo vocale Prima di potervi fare questa presentazione, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Lasciare un bel mi piace E attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video Ma prima, becchiamoci la nostra sigla! Come già spiegato in video precedenti, il 29 settembre Amazon ha fatto una presentazione solo per i giornalisti Si, a porte chiuse A porte chiuse dei nuovi prodotti che andrà a commercializzare e tutte le idee e quant'altro E quindi ad oggi su Amazon sono ancora presenti forti offerte sui prodotti di domotica Parliamo della nostra amica naturalmente Quindi con questo video vogliamo informare, come diceva Miki, tutti coloro che ancora non ne posseguono una E vogliono attingere a questo mondo nuovo Ora vi facciamo un elenco così potrete poi cliccare il link qui sotto in descrizione e procedere tranquillamente all'acquisto Quando abbiamo fatto il video sull'evento che ha fatto Amazon il 29 settembre abbiamo detto Beh, tirando fuori tutta una serie di prodotti nuovi sicuramente tutti i prodotti di una certa annata andranno in promozione Beh, fortunatamente così è successo, fortunatamente per chi vuole fare un po' di acquisti Esatto E benvengano in modo tale che noi possiamo ampliare il nostro parco di assistenti Eco piuttosto che E chi invece non è ancora entrato in questo fantastico mondo può approcciare spendendo qualcosina meno Ed ora direi di passare direttamente su Amazon Lo vediamo insieme a loro e scorriamo un po' le offerte che ci sono Perfetto, facciamo partire le immagini delle offerte Fatto tutto questo preambolo adesso proietteremo qui le offerte che abbiamo trovato su Amazon Abbiamo l'Eco Dot di quarta generazione Questo qui appunto, quello bello, sferico, molto bello esteticamente in effetti Sì, effettivamente sì Che da 59,99€ è passato a 39,99€ Quindi avete uno sconto importante, 20€ quasi a metà prezzo Poi abbiamo il nostro bellissimo e classico Eco Dot di terza generazione Questo è passato da 49,99€ a 29,99€ Sì, qui ci sono stati momenti in cui era anche molto più basso Però comunque è sempre a 20€ in meno del prezzo ufficiale di listino di Amazon Ripetiamo che queste offerte sono da cogliere al volo per soprattutto coloro che vogliono entrare in questo mondo Approcciano per la prima volta O se magari volete ampliare la vostra batteria di assistenti vocali Esatto, per chi approccia proprio alle prime volte e vuole veramente spendere una cifra bassissima È presente anche l'Ecoflex Io sono un grande sostenitore dell'Ecoflex Secondo me è un prodotto fantastico Comunque, anche se non lo doveste conoscere Trovate qui nell'elenco dei nostri video Più di un video dedicato all'Ecoflex Dove vengono spiegati tutti i pregi di questo prodotto E con soli 14,99€ potete acquistarlo E avere la vostra assistente domotica a disposizione Con tutte le funzioni degli Eco Show più complessi e quant'altro che abbia fatto Amazon ad oggi Prezzo pieno era 29,99€ Quindi questo a metà prezzo proprio Pieno, pieno metà prezzo E fidatevi, potete metterla ovunque abbiate una presa di corrente Cioè, è fantastico E poi tanti accessori da montare sotto Vabbè, non mi dilungo perché sennò Basta, ci sono già i video, andrete a rivedere Vero Facciamo prima Ma se per caso volete anche unire non solo la parte audio Ma anche metterci una bella parte video Magari in bagno, in cucina Perché volete, non so, scrutare qualche ricetta Piuttosto che ascoltare delle news O in bagno se vi state radendo Eh, o se no se ci rimanete tanto in bagno Magari vedere una serie tv Perché vi state pettinando Allora potete approfittarne e vedere una serie tv Stiamo parlando di cosa? Dell'Eco Show 5 di seconda generazione Il modello è del 2021 E viene proposto da 84,99 euro 59,99 euro E vi posso garantire che anche questo è un ottimo prezzo Perché vi dà la possibilità appunto di visualizzare più cose Comunque anche di questo e di tutti i prodotti che vi stiamo presentato Trovate qui sul canale tutti i video Altro oggetto Andiamo su dimensioni un po' più grandi Per i maliziosi non pensate male Esatto, il polliciaggio Il polliciaggio dello schermo Stiamo parlando dell'Eco Show 8 di prima generazione Quindi un modello 2019 Ma tolto il fatto che magari ha qualche pixel in meno Eccetera eccetera Comunque è un ottimo prodotto Da 109,99 euro Siamo passati a 84,99 euro Dopo aver visto i prodotti che vi possono essere utili Per iniziare il mondo della domotica Ricordatevi Una volta che andate ad attivare il vostro account Amazon Di sfruttare la promozione Cioè gratuitamente, proprio totalmente Potete attivare Amazon Music per 30 giorni Quindi è sempre un qualcosa in più Ci sono milioni e milioni di brani da poter ascoltare Ed è un servizio comunque bello e comodo E vedrete che poi comunque Non ne potrete fare a meno anche di quello praticamente E quindi andrete ad attivare anche quello di sicuro Se per caso invece non volete attivarlo Vi basterà verso il 29esimo giorno Disattivare la richiesta E basta Direttamente con la vostra assistente Tutto vocalmente Vi invitiamo nuovamente ad andare a guardare Tutti i video che abbiamo fatto Su tutti i prodotti del dispositivo Amazon Abbiamo abbracciato veramente tantissimi prodotti Con tantissimi accessori Se non volete perdervi nei meandri del nostro canale Ci sono le playlist Cliccate su quella denominata Col nome del nostro assistente vocale E vi guardate tutti quanti i video precedenti In modo tale che Avete una grossa infarinatura Di come poterla utilizzare Per questo video è tutto ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao